Salve, sono Tyro Sein. Forse vi ricorderete di me per essere il regista di Kashmir Podcast, di innumerevoli videoclip e di molti documentari sui gioielli più preziosi d'Italia. Oggi sono qui per introdurre una puntata di Kashmir. Speciale direte voi? Specialissima! Ecco a voi la prima parte del film del Kashmir Summer Tour. Uscito nel 2021, raccoglie le gags e i momenti migliori del tour della prima e indimenticabile stagione di Kashmir Podcast. Alice e Cecilia sagaci Kashmirine, Carmelo che profana un anfiteatro romano, Edoardo e Luca in un commovente saluto ai croceristi. Eccolo qui, tutto per voi. Buona visione. E vabbè, quindi niente, ci siamo. Non so, faglielo a spiegare adesso. Cioè, che cazzo sono venuti a vedere un podcast al vivo. Ma non lo so. Anche perché poi su YouTube è gratis. Quindi, appunto. Io non ho i soldi da ridargli, ragazzi. No, manco io, manco io. Ma che sei matto? No, no, no. Non abbiamo preparato un cazzo di niente. No, infatti non c'è niente. Non c'è niente in questa serata. Ah, raga, se vedete una mossa, iniziamo che io dopo c'ho da fare. Va bene, Tehir, arriviamo. Scusa, scusa. Buonasera e benvenuti ad una nuova serata di Kashmir. Un summer tour morbidissimo. Potete fare un grande applauso a Carmelo Avanzato, signori, che... Dov'è Carmelo? Grazie, sono dietro di voi. Vedo solo i capelli. Cos'è questa luce che sta andando a cercare la perla nera, il diamante più speciale di Islamabad? Non sarebbe Kashmir Podcast senza Tair Usain? Vabbè. Che dire? Le Kashmirine. Le nostre Kashmirine. Cecilia Tanasio. Ciao, ciao a tutti. Alice Oliveri. Benissimo, siamo... Che c'è? C'è qualcosa che ti turba? Vabbè, non mi è mai successo di parlare... Un milione di megahertz di otto motori di navi qui dietro, fantastico. Quindi il tempo sta... No, è una cosa incredibile, incredibile. Però questo qua non è una crociera, questa qua sta andando a Palermo. Questa è una nave che se la prendi hai delle cose da spostare in Italia. Ha un trasloco andato male. Cioè, queste per... Mentre prima ci guardavano perché le persone hanno buttato, non so, 10.000 euro per farsi trombare la moglie per due settimane da mozza. Guarda, c'è veramente quella della cabina 328, te la consiglio, guarda. Non ti voglio dire niente, ma da sicuro che devo... Qua mi sa che è un viaggio lungo. Sì, sì, questo sì. Io glielo chiede. Ma dove stai andando? Niente, non rispondo. Ma non finisce mai. E poi si fa... Sai, quando io penso a queste navi, io veramente, prima ci ho pensato... Cantiamogli la canzone del Titanic. Poi cambia tonalità. Adesso il capitano si distrae fino sulla lanterna. Casino per genoma. C'è il comandante Bellini, c'è un coglione che canta silenzione. E vorremmo dire ciao Milano, ma dato il luogo in cui ci siamo, preferiremmo dire ciao Segrate! Non vi stiamo sentendo. Avevamo chiesto Milano, ci hanno dato Segrate, perché noi siamo tipo le olgettine. Buonasera Napoli, fateci sentire un po' del famoso calore di cui tutti parlano. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie ragazzi, fateci un applauso, che meraviglia. Che meraviglia essere qui dopo essere stati a Milano. Un po', sì, Milano che è una città dei vizi, cosa che Napoli non è. No, mai, mai permetterci, mai. Quel tipo di albergo, praticamente gli alberghi di fianco agli aeroporti sono gli alberghi dove i padri da tutta Europa, da soli, vanno a permettersi quel vizietto in più. Quindi probabilmente sul cuscino sul quale noi abbiamo dormito, dei padri olandesi si sono detti Tonight I'm going to have cocaine and transsexual, yeah. Allora, no. Ah, Luca, non posso tagliare tutte le cose come facciamo nel podcast. Lo so, lo so. Non puoi tagliare, però insomma, cerchiamo di essere all'altezza della fama che abbiamo visto che Repubblica ci ha definito due Pio e Amedeo che hanno studiato. Cioè, Luca Ravion, per esempio, è ebreo. Se ti dicono è ebreo, a te è il modo in cui lo dicono. Solo dire Pio, non lo dire. Oh, fammi vedere se c'è il pistolino con tutto quanto i pezzi apposta. No, ti devi offendere, hai capito? Noi volevamo ringraziare per questo premio Nobel per la pace, per aver... Abbiamo risolto la crisi Israele-Palestini. Israele-Palestini, sì. Abbiamo risolto che poi l'Israele sempre quando fanno la guerra mi hanno fatto una frecata ogni tanto, no? Dai, Pio. Vabbè, sistema tutto quanto. Cioè, ci è scappata un po' la mano con l'Afghanistan. Quella è vera. Oh, quella è vera. Ma poi ci volevo chiedere una cosa a Kamala Harris. Kamala Harris, tu con Joe Biden ci hai fatto il ringo. Ci hai fatto il ringo con Joe Biden. Mia verità. Volevamo ringraziare la National Book Award americana per averci dato il premio che fu di Philip Roth a noi. Ci hanno dato un calcio alla teca, hanno scritto Pio Amedeo, hanno dato tanto quello che si è morto. Ci penso pure Gino Strada, quella cosa bella che ci ha detto. Pio, Amedeo, pensateci voi. Poi mi sospetto. È una promessa, Gino, non ti preoccupare. Tre quarti dei monologhi loro sono... Ma questo è buono, leggilo. Noi più volte ci siamo messi nei panni di due ragazzi, magari due ragazzi omosessuali, come potremmo essere io. Coppie omosessuali, Lugravenna, Roma, che camminiamo per strada e come purtroppo, in modo molto spiacevole succede... Arrivano otto bestie e ci iniziano ad insultare. E se insultare noi ci stringiamo la mano, uno guarda l'altro e ci diciamo... Pensa alle parole di Pio Amedeo. Di Pio Amedeo. Voi quando mi dicono le cose amofume dovete fargli un sorriso! E quindi li guardiamo, ragazzi. E si apre in tragedia questa notizia a calda di Pio Amedeo. Quando un messaggio è dritto, è dritto. Scusate, ma che vuol dire cisgender? Eccola la... Tair! C'è questo podcast da Islamabad, straordinario, si parla di maschio cisgender. E del rapporto con la donna che dobbiamo cercare di migliorare. Questo problema dei maschi cisgender, Tair, sappiamo che sono termini che non vengono utilizzati molto nella moschee. Per esempio, questi... Chiediamolo a Carmelo di spiegargli alla Tair cosa vuol dire cisgender. Carmelo, puoi spiegare... Certo, ragazzi. Il suffisso trans si può tradurre come dall'altra parte, come tra stevere e dall'altra parte del tevere. Mentre cis dalla stessa parte. Quindi chi si sente rappresentato dal suo corpo è un cisgender. se il suo corpo rappresenta anche la sua personalità... Hai iniziato a lavorare per Vice, Carmelo? Ma all'inizio devo fare una bella figura, poi tra poco... Non me lo aspettavo, lo sai. Carmelo intervista le sex worker di San Pietroburgo. In un russo perfetto. C'è la Cis Giordania che dovrebbe conoscere Tair. Ma che ne sa Tair? Esperto di politica estera dei paesi arabi. Noto esperto di politica estera, senz'altro. E ora ci siamo trovati, quasi senza dircelo, con due magliette. Abbiamo le magliette di due quarantenni che vanno a ballare fra le sedicenni. Dove l'hai comprata questa maglietta? L'ho presa in un negozio vintage. Voi ce l'avete in negozi vintage a Milano? Non credo, vero? Non è il genere di cose che fate voi. Stai scherzando? Cioè, scusa, da dove vieni? Cioè, da quella città con la lupa davanti, il fiume? Non avete i mezzi? Oh my god. Sei top, top, top. Hai fatto questa domanda? Sei troppo cucciolo, love? Foto me and you? Ma ti andrebbe di fare un podcast dove parliamo di queste differenze che ci sono fra noi e voi? Va bene, però soltanto se mi metto i piedi così sul letto. Va bene, facciamo il podcast per tutto il tempo così. Va bene, parliamo un po' di noi. E parliamo di sesso, tipo? Sì, va bene, dai, parliamo di sesso. Però parliamo di sesso fra due trentenni maschi che si conoscono e tua moglie e anche la mia gente? Va bene, parliamone così allora, ok? Ok. Cambiamo immediatamente argomento. No, ma no, mi interessa, è la prima volta che hai avuto un orgasmo, da uomo? La prima volta che ho avuto un orgasmo è stato a 12 anni, sì. Ah, e come è avvenuto? Come ti sei sentito? In colpa? No, lo shampoo era il badedas. Questo, questo è quello che ricordo. Svegliamo questo segreto, siamo molto appassionati di podcast, non tutti, ma di quelli che raccontano del sesso al femminile. Ce n'è uno in particolare che è il nostro podcast preferito, è diventato... E ascoltiamo in van, o quando siamo insieme. Posso dire che me l'avete fatto sentire oggi e volevo suicidarmi. Tu sbagli, Teir, sbagli. È bellissimo, è una presentatrice, è una signora di 43 anni che intervista delle persone parlando di sesso. Se mia madre mi raccontasse come si fanno i bocchini, sarei meno a disagio. Non mi pare... Eh, si deve prendere le bolle in mano! La cappella della schiocchi sul palato! Dimmi... Ma a papà o in generale? Ok. Minchia! Sì, no, è una roba... Oggi l'abbiamo sentito, partiva una puntata su... L'orgasmo durante la posizione del missionario. Questa donna di 45 anni intervistava questa povera ragazza di 20 anni. Allora, oggi siamo qui con Valentina. Ciao, ciao a tutti. Grazie per essere qui con noi, Valentina. Mi fa tantissimo piacere essere qua, a perdere la vergogna con una signora che non conosco, ok? Allora, Valentina, innanzitutto io ho 45 anni, tu ne hai 20 e in tutta l'intervista emergerà che io ti odio. Parliamo di... Dici, come raggiungi l'orgasmo durante la posizione del missionario? Allora, a me piace... Questa è la risposta vera che ha dato la ragazza. Non ha parlato del missionario, posizione che tutti conosciamo, ma ha detto a me piace essere appoggiata contro il muro con lui che ti tiene di forza. Tahir, ti prego di ricordare cosa hai detto. Io, quello che ho detto è allora, se te piglio in braccio e te sbatto contro il muro, dopo 15 secondi te metto giù, te dico pesi troppo e te metti una pizza. Una pizza margherita, come a dire, io il mio l'ho fatto. Così si fa l'amore in Pakistan, ragazzi, questa è... Alla garibaldina pakistana si chiama questa qui, c'è proprio... No, quali sono i trick eroti? Cioè, come si ravviva una serata a Bra, a gennaio? Lunedì sera di gennaio a Bra, si vuole fare l'amore. E' stato bagna cauda. Uh la la! E' tipo... E' la paprika del Piemonte, capito? Che ti lascia quel bel alitino di alisce marinata. Vieni qua, facciamo l'amore e girati. Facciamo au contraire. Come facevano i sardi, quando li abbiamo visti dalla nave che facevano quella cosa con quelle donne molto pelose. Sto l'hai detto tu. No. Eh, no, no, mi stasso il netto di socio. E cosa fai? Come approcci? Come prima cosa io mi avvicino e so che a mia moglie c'è una cosa che la eccito. Quando poggio sul tavolo il partigiano Johnny, mi dico che no. L'appoggi lì, non capisce più niente. E io le dico, aprilo. Lei lo apre e c'ho il cazzo dentro. Allora, partigiano Johnny, siamo pronti qui che si va in guerra. Come i bersaglieri, mi raccomando. Aspetta, prendo il fazzoletto rosso. E' alì. Ah no, prima di venire duro, prima di venire duro. Ah, poi si... No, vai di là. A quel punto si va nell'altra stanza. E si trova chi? Luisa. Il manzo romagnolo. Adesso chiamiamola... Perché noi nella puntata in cui abbiamo parlato dell'Italia, tutto quanto, parlando di tutti i stereotipi, tutto il tempo, cosa che stiamo facendo anche stasera, abbiamo toccato abbondantemente questo grande stereotipo dei romagnoli, che sono dei grandi seduttori. È vero, è così? I migliori d'Italia? Allora, sono un po' viscidi, effettivamente. Ti deve piacere il viscidino. E quale donna non ama il sapore di lumaca? Come la salicornia. Ti deve un po' piacere il viscidino. No, è che sono troppo tamarri. Dopo dipende dai gusti, però... Qual è la cosa peggiore che hai mai sentito dire da un ragazzo? Cioè la frase da rimorchio di un romagnolo che ti è stata detta la peggiore che ti ha fatto accapponare la pelle. No, a me no, ma un mio amico si è trovato l'amorosa con la battuta dell'orso polare. Dell'orso polare? Quanto pesa l'orso polare? Abbastanza da rompere il ghiaccio. Tu ti immagini... Rompere il ghiaccio così a Roma. Cioè la tua storia da... Esatto, sì. A Roma... No, tu non hai il mio accento, per fortuna tua, però... Lo sai quanto pesa un orso polare? Abbastanza da rompere il ghiaccio. Destro in faccia da una bora di torte e testa. La testa di cazzo, ma che te pensi che stanno a fare il firmetto? Ciao, vi attenzione. Testuali parole. C'hai il telepass? Nessuno lo sa. Perché mi si è alzata la sbarra. Ma dove è successo? Non ero in riviera, ero a Pescara. Quindi non... Una bruzzese è arrivata. Freghe, freghe. Che mi si è alzata la sbarra. Frase che disse Matteo Corradini. Gli abruzzesi sono napoletani de montagna. Frase detta dall'amico Corradini. Mi dissocio completamente da queste parole. Ragazzo, di dove sei innanzitutto? Io sono di Atessa, vicino Pescara. Ah, chiediamo scusa. Mai ci saremmo permessi. Però... Però... Senti, fossi sindaco di Roma, quale sarebbe il primo problema che risolveresti? Allora, pensandoci bene... Le buche, dai. Le buche? Come? Come? Con che... Eh, perché come? Perché te le buche risolveresti? So, 200 anni. Come le risolveresti, ste buche? Tutti ci tappandole. Non funziona così. Non funziona così manco per niente. Ma a me viene facile fare della stupida e sciocca ironia perché io per snobismo, pur vivendo qua, voto a Milano. Ah, certo, giustamente. Sì. Mi diverte questa cosa perché avevamo il sindaco perennemente in after sex. Beppe Sala sembra che abbia appena finito di scopare ogni cosa che dice. Quando fai i suoi video, dici buongiorno Milano. Noi invece abbiamo una sindaca che ha mal di testa da quattro anni. Questo è il rapporto fra i due. Sarebbe bellissimo se lui ci provasse con lei. Dove potrebbero avere un appuntamento loro? Due a Roma. Lui è sceso a Roma e ha trovato su... Guarda chi c'è, la viaggia. Fai quanto l'ora? Beh, lei gli propone un posto che noi riteniamo non sia in conflitto con le precedenti amministrazioni. Il McDonald's di fronte alla stazione Termini, un luogo in cui noi romani crediamo molto. Vergine, voglio che mi parli di te, non voglio che mi parli di Roma. Allora, parlare di me significa parlare delle precedenti amministrazioni. Noi abbiamo trovato una città devastata. Abbiamo trovato una città con un buco devastante. Anche questo luogo in cui ci troviamo, i soldi spesi per questo luogo, quanti anni di immobilismo avrebbero potuto finanziare? Cioè, quanto sarebbe stato più divertente tenerli fermi immobili da una parte? Perché non andiamo a fumarci una bella sigaretta a Tibur, quella specie di spiaggia che hai fatto su un gottiero? Quella è stata un'idea. Noi volevamo che i romani si riappropriassero dell'electo spirosi. Questo era stato fin dall'inizio il nostro progetto. Per questo abbiamo finanziato un progetto da romano assorcio. L'idea era quella che i romani si riavvicinassero alla fauna romana. Ma lo sai che quando parli le orecchiette ti fanno fre, 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 fre? Senti un secondo tesoro. Quanto sei stupido. Lo so. Senti ma perché non andiamo a farci un bel giretto in bicicletta? C'è una pista ciclante? Le abbiamo tutte buttate nel te. E allora non ci resta che fare l'amore. Per quello devi parlare con le precedenti amministrazioni. E finisce a letto con Rutelli. Che rapporto hai con Milano, caro Edoardo? Milano è la città dove vivrei volentieri se non abitassi in una città più piacevole. Penso. Questa è la cosa che penso ogni volta che vengo qui. E lo so ragazzi, ma adesso ne parliamo. E questo è un discorso complesso. È un discorso complesso. No, si apprezza sempre molto a Milano questa capacità che è tutta del sindaco, credo, di Beppe Sala di fare più settimane dedicate ad eventi nel corso dell'anno di quante settimane effettivamente esistano in un anno. Cioè non è possibile che ci sono 87 settimane dedicate a qualsiasi tipo di evento. Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Cioè il mobile, la moda, l'amicizia, le cose. In realtà però di tutte le settimane non ho mai fatto la settimana che dovrebbe fare a Milano. Quella definitiva. Cioè? Vabbè, un po' di sincerità. Secondo me le persone non rideranno, però è la verità. Buongiorno Milano. Abbiamo deciso di dedicare finalmente la settimana al nostro prodotto. La cocaina. Qua è tipico che si fa il selfie con la gente dietro. Con la gente... Poi subito calza gay friendly, tac. Ricordiamo sempre gay top, immigrati super top, terroni. Non. 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 La settimana della cocaina abbiamo deciso di portare a Milano un grandissimo personaggio, un amico. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Si parecido con la martesana. Il puttanazzo loco. Il puttan... No, io se che è una canzone che è molto famosa in Italia ora. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. No, adesso, Pablo, tu dici... Puttanito loco. Sei un puttanito loco. E teniamo anche il musicante dello sbluvertigo, Marco Castoldi, in arte morgana, che è qui per onorare me... Buonasera Milano, come ti amo? Belli carichi, boom, 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 boom. La vera notte bianca inizia oggi. Allora, ragazzi... Se veramente... Pablo Escobar vede morgan tipo... Ma stranchilito, por favor. Mi sta un pochito di ansia. Sì, sì. Bologna però potrebbe rispondere alla settimana della cocaina con quella naturale che viene subito dopo. La settimana dell'eroina. Ah, certo. Giustamente. Cioè, mica, quando siamo venuti a Bologna un mese fa... La proloco... Molto bello. Una bellissima scena. Cop di Piazza dei Martiri... E già si ride a Bologna. E già si ride su Piazza dei Martiri. Se tu da criminale andavi lì, la tua fedina penale era pulita ed era un porto dove potevi lavorare. Quindi i Livornesi sono i discendenti dei criminali del medioevo. Ah, perfetto. Me l'hanno raccontato a Livorno. Non è che i pisani ci hanno voluto mettere... No, 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 me lo posso immaginare. Certo, certo. A me fanno impazzire quelle cose vostre. Sai che incontri un toscano ovunque per il mondo e dici... Sì, no, io ho degli amici... Ho conosciuto delle persone di Poggi Bonzi. Quelle merde maledette possano morire impestati a casa. Poggi Bonzi. Ha detto Poggi Bonzi a caso. A caso. Potremmo dire qualsiasi altro posto. Che vi hanno fatto? Nel 1501 ci rubarono la ricetta dei Ricciarelli. Quelle merde maledette ne possa morire a casa qualche ed uno. Però è anche una regione dove tendenzialmente non ci si prende troppo sul serio. Ah, no, no, no. Cioè, di base si scherza sempre. Sì, sì, sì. Ma non toccare i giochi. Mai, mai. C'è una città in particolare... Anche di un pelo per molosetti quando si tratta di giocare. Siena, esatto. Se tu provi, provi a far notare in fondo, in fondo, il fatto che nel 2021, ancora adesso, non rivolgere la parola alle persone della contrada dell'Istrice... A tua moglie. Che è tua moglie, poi. Quella merda maledetta, ogni parlo da... No, poi finisce. Poi il bello è che finisce la cosa... Sì, sì, poi finisce. Ovviamente da non toscani... Magari nel resto della Toscana... Ma noi vi invidiamo. Apprezzato, presa in giro o invidiata anche da non toscani... È strano, è ovviamente strano. Ti immagini il palio di Roma? Il palio di Roma? Allora, oggi purtroppo per i cavalli hanno avuto una situazione sindacale intollerabile. Il sindacato equino non permette che il cavallo possa fare la gara. È intollerabile che il cavallo non possa cagare tranquillamente dove vuole e debba farlo dentro quei curiosi sacchi che portano dietro alle carrozze quando stramazzano a Piazza San Pietro. Ma guarda Giulio, dimmi i passi. I cavalli quelli sono un po' meno buoni. Cioè, fanno il ragù. Lo vendiamo ai turisti come matriciana, pure se il ragù. Ho parlato con la sindaca, quello si chiama Ricchiona. Quello che fate i turisti qui è brutale. È un po' quello che si fa al maiale in tutta Italia, diciamo. Del turista non si butta via niente. Non si butta via niente. Non nella maniera più assoluta. Beh, qualcuno dovrebbe fare una guida tipo come inculare i turisti a Roma. Questa è un'idea che viene nella prossima Lonely Planet. Sai quando fanno il ridotto della Lonely Planet, no? Esatto. Come farsi fare male brutalmente da un... Mi chiamo Fabrizio, molto piacere, si sa. Ecco, guardi, lei è... Non c'è problema. Ok, certo. Now, complete Roman tour. Yeah, sure man, sure, absolutely, complete. Per lei è la sua meravigliosa signora. She's a man, but yeah. I don't see any difference. Me too. There is inclusivity in this town, especially from me. She's Carminati Kathleen Jenner, anyway. Ok, I remember. Ok, first now we go to Pompei. Oh, my God, is it so close? Yes, it's in Rome, Pompei. For real? Yes. My God, I thought it was in Naples, I don't know. No problem. Now, we do three rounds of the Grande Raccordo Anulare. Yeah, sure. And then I leave you at Tosti Antica. But that's Pompei. Ok. That's Pompei. Got it, got it. It's no problem. Then, I'm going to take you to the most beautiful places in Rome. for you and your beautiful lady. Te porti all'occhio dell'Aventino. Hai capito? Oh my God, what is that? Erbuccio dell'Aventino. There is an hole in there, Aventino. And what can I do there? Taking pictures? No. If you look in the hole, you see the magic of Santa Maria Maggiore. I don't remember. It's St. Peter. St. Peter. Yeah, sure. That's very famous. That's very famous, right? You know? The prayers on Sunday. Yes. How much? How much for that? The ticket is 100 euros for the St. Peter Hall. Got it. Ok. Then we go to the Bocca della Verità. Ok. Yes. 150 euros. Just for you, my friend. Because you're very funny. And what about the food? The food? Yeah. You want to eat the typical Roman ice cream. Yeah. The shape of a gondola. It's amazing. Ok. Got it. Yeah. The gondola is in here? It's in Rome? The gondola is typical in Rome. Oh, ok. My cousin can take you to the gondola. Mario, there's an American sport on a gondola. Prima di Aganote, papà. Lo portiamo. Eh? Arzarto dell'isola Tiborina. Lo butti dentro l'acqua. Ciao, ragazzi. Signor Chad. Buongiorno. Mi chiamo Vette. Ah, sì. Scusi per la situazione del Covid. I just booked the... I have a reservation. Per che cosa? Una prenotazione. Sì. Di Airbnb. Ah sì, Airbnb. Allora, in questo momento l'Airbnb che l'ha selezionato, purtroppo ci sono stati dei problemi. Ok, I don't know. I don't know what you're saying, sorry. Problems, there is more beautiful B&B. Ah, ok. Ok, so it's just open, it's on the beach. You just sleep on the beach. Ok, so tomorrow we have Napoli Sotterranea, but it's closed, so we go to the Caserta Sotterranea. Which is very beautiful. It's the same, right? It's completely the same. Yeah, yeah. Completely the same. They heard that Caserta, it's like the fire place, I don't know, something like that. It's very straight, very... Absolutely not. It's the same. It's the same city in Napoli Sotterranea, una fazza, una razza. What's your name, man? What's your name, man? Anzi, si vogliono anche molto bene Napoletani e Caserta, c'è proprio un'unione che proprio si amano. What's your name? What's your name? My name is... Awet. My name is... My name is Giuseppe. So I'll take a picture of me. Sì. It's not the bono, bro. Listen. You know where I can find some... I don't know how to say it. Like some pussy. Like around here. Ah, Nigar Baratova, il signore di San Diego. Allora, Vardy, ci sono tante università, lot of American universities in Firenze. No, I want to find some Italian pussy. Oh, you want to try the boar, la cinghiala? Allora... Se lei... Se le fidi... Se le fidi... Yeah, sure, I want to try that. I don't know what it is, but must be amazing, man. Lo vedrà, lo vedrà. Guardi, si forti in pettine dietro. Mi diaretta che... Le servirà. Guardi. Cinghiala. How do you call it? Cinghiala? La cinghiala. Like... The typical Italian cinghiala. I don't want to speak to you. A capelli di sotto, di sopra, di ogni dove, guarda. Te, tu, va, ti piace. Yeah, whatever. I just read... Somewhere I read Papardelli and cinghiala. I don't know what it is. Papardelli e cinghiale. Ah, assolutamente. Yeah. I want to try some Italian pussy if you... Allora, lei può provare. Se va a piazza... Lei va qui, a piazza della signoria. Piazza della signoria. Può provare. Esatto. Piazza della signoria, però, sono un pochino più sofisticate. Lei mi deve andare a Cecina. A Poggibonsi. Mi deve andare in quella città vicino Prato, dove ci sono le troie. Qual è quella città lì che mi hanno detto tutti quanti che... Pistoia! Pistoia! Ah, Pistoia! Ma perché? C'è stato Pistoia, non è Amsterdam, eh? Cioè... Quelle Pistoiesi... L'hanno detto loro. Ma infatti era un'altra, però bella come in Toscana. Dove sono le troie? Pistoia! Qual è il difetto peggiore dei modenesi, secondo te? Così ce lo appuntiamo per domani sera. Sì. L'invidia. 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 Tutti quei camion che vedi sulla Salerno Raggiocala con scritto Invidia Crepa! E li sono tutti quanti di modenesi. Pensate. È vero. È vero. No, sul serio, i bolognesi... Cosa avete più dei modenesi? Cioè, così lo capiamo finalmente, abbiamo... Eh... Boh, sono la nostra versione più piccola, non lo so. Cioè, non c'è qualcosa di specifico. Tutto. Certo. E quando loro dicono tipo la Ferrari, voi com'è? La Ducati. Eh, però la macchina è più grande. È effettivamente più grande, ora non vogliamo... La Lamborghini. La Lamborghini, certo. E quando loro però dicono bottura, voi cosa dite? Barbieri. Un barbieri. Regà. Vai, vacce con questa coppia satanista, Carmè. Il ragazzo, con un due di picche sulla schiena. Il due di spade. Il due di spade, chiedo scusa. Ma non è mia, è dei comacose. Cioè, dobbiamo andarlo a cercare a Milano il satanismo. Ok. Perché ti piace satanismo? Dei comacose. Ma in realtà... Infatti volevo proprio chiedere. Eh, beh... Ma come, coach? Di dove siete? Eh, coach. Taranto. Taranto. Let's go! No, però... Cioè, sento di essere stato attratto da Torino, anche perché io vivo a Torino, ci lavoro, da anche l'esoterismo torinese. Ma non so bene perché. Eh, questo è il trucco dell'esoterismo. A un certo momento ti trovi un prete di 70 anni, due ragazze con la gola tagliata, mi fanno, cosa dobbiamo fare? No. No. E tu, ma non lo so, a Taranto ce la discorso. Civo! Eh, ci sono le cosplay roles. Ti immagini una seduta spiritica fra Piemonte, una seduta demoniaca fra Piemonte. Guarda, ti vado a mani e facciamo un tennis alle cinque? Sì. Puoi o...? Non posso perché... Ma siamo tre, manchi solo tu. Ma ho una messa nera. Orca! Come fai? Anzi, guarda, ti va di venire. Ma dici che merita. Abbiamo un boné buonissimo peraltro, guarda, eh. Facciamo... Eh, va bene. Allora, li lascio al singolo e vengo. Sì, guarda, vieni. E allora... Dov'è l'indirizzo? Allora, l'indirizzo è in via della capra capovolta con un pentagono in testa. Ok. Di fianco a fiume... Sì. Ok. No, la lavanderia da Marisa. Ok, allora. È quello. Perché pensavo a chi vasso, scusa. Inizia poi la messa nera e inizia... Allora, oh, per cortesia... Astaroth, Belzebù, Cupacabra, liberaci il Piemonte dai Terroni. Per cortesia. Eh no, Pianura è un posto qua vicino, però per i presenti sarà più chiara la mia battuta. Cioè, loro non sanno che lui è di Pianura. È un posto pericolosissimo. Attenzione, attenzione. Come mai è pericoloso Pianura? Perché i semafori russi durano troppo poco? Non lo so. Si dice che la Repubblica di Genova si è andata ad attaccare Venezia, si è arrivata a Chioggia, si è sbranata, e i veneziani tutti contavano. Una cosa che ci racconta un nostro amico di Venezia, dicendo, eh, Genova ha sbagliato. Ha affondato Chioggia e invece non pensavano fosse Venezia. E detta questa cosa, chiunque non abbia avuto a che fare con le Repubbliche Marinare, ma sì, grande. Ricordami come si dice sti cazzi in Veneziano, abbi pazienza che lo cerco su Google. Grande. Per caso produci vino naturale? No, però lo beve. Sicuramente lo beve. Ecco. Anche in discrete quantità, insomma. Non è il momento di bullarsi dell'alcolismo. No, no, no. Per questo poi ci arriveremo. Una cosa che non succede mai in questa regione. No, molto difficile. Mai. Ti è mai capitato di incontrare, che so, dei veneti in giro per l'Italia che ti fanno notare quanto la sera prima... Ma è successo? Cosa è successo? La sera prima ci siamo... Non me lo dire! Ubriagati! E vado a dominare! Vi senti ubriagati fino a perdere i sensi e a decidere di fare un referendum per rendervi indipendenti dal resto del paese, per caso. Eh? Alt! 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 Bravo! C'eravamo anche noi! Lo so, lo so, lo so. Sì, però voi siete un po' i cugini, quelli un po' osteggiati, eh? Dai, vediti! Eh, ma sì, un po' sì! Ci sono i tre colori... Più spocchia di loro non è possibile, più spocchia dei veneti, eh? Guarda! Detto da un romano? Certo! Ovviamente! Allura! Detto da un milanese? Detto da un pakistano! Noi in realtà avevamo anche pensato di... diciamo... di fare anche proprio dei podcast dedicati a questa meravigliosa regione nella quale ci troviamo. Quando poi però ci siamo chiesti quale potesse essere un podcast ugualmente truce, insomma, su... sull'Emilia, che non fosse stato già fatto da Pablo Trincia, eh... l'idea non è stata quella di veleno, bensì... L'idea è quella di... salame! Tutto su maiale! La storia india! Tu sai fare Pablo Trincia! Siamo a Bologna, in questa regione il... quello che viene fatto al maiale in confronto a quello che veniva fatto in quelle messe nere, è un qualcosa che non ha paragoni. Lo intervistano un maiale... camorrista, non lo so... Ah, noi ci siamo stati portati... perché la voce era... Ci siamo stati portati tante volte all'interno delle salome... Praticamente il cannavacciolo la mattina! Noi siamo grandi fan dei podcast... Dei podcast motivazionali, meravigliosi! Però scusa, pensiamo al podcast... in cui banalmente non c'è un ero... No, ma diciamo... Come hai detto tu... È il contrario di come si vende spesso la propria giornata, tipo... Cazzo, ragazzi, oggi non può... Tipicamente lombarda... Molto lombarda... Ragazzi, ho appena realizzato un sogno! Non posso credere a quello che ho fatto! Ragazzi, ho comprato un nuovo motorino, mi accompagnerai in un lungo viaggio... Ce ne frega un cazzo! Eh no! Il tuo sogno è lunedì, l'hai raccontato, è una figata! Ma puoi avere un altro sogno grande uguale il martedì? Eh no! No, è impossibile! Poi cazzo, sette giorni, sette sogni, non è possibile! Cazzo sei, Freud! Quanto stai a dormire? Non esiste! Quindi... Non mi ricordo basandolo su cosa, però provare a fare il podcast demotivazionale! Cioè, mi sono svegliato la mattina e ho ridormito fino alle 11.35! E ragazzi, vi giuro che svegliarsi a Cernusco sul Naviglio alle 11.35 è meglio svegliarsi freddi! Poi però la giornata va iniziata, così sono salito sulla mia 600 e ho fatto ben sette chilometri ascoltando RTL per andare a prendermi una brioche! Erano finite! Ho preso un occhio di bue e sono tornato a casa! Sono tornato a casa e ho realizzato una cosa! Odio essere padre! Lo odio dal profondo del mio cuore! E l'ho realizzato mentre mia figlia mi ha dato il suo primo disegno dell'asilo con scritto, vai piano papà! Ma poi, vai piano papà, l'ha scritto la maestra, la Fausta, lei sì che me la piomberai a stecca! Torna a casa mia moglie dal lavoro, sono le 18 mi dice cosa cazzo hai fatto a casa tutto il giorno e perché? Invece te al centro commerciale il cammello di karate Brianza? Che cosa hai fatto di bello per questa famiglia? a volte penso delle cose molto cattive su mia moglie! Prendo quel che resta della bottiglia di Aperol mi verso l'ultimo sprizzettino senza Schweppes e senza spumantino prosecco quindi praticamente bevo dalla bottiglia dell'Aperol e sento mia moglie che mi fa Fabio! La rimetto via e torno da lei ho un coltello in mano sono indeciso su cosa fare, metto rete 4 la palombelli mi motiva moltissimo Noi siamo molto appassionati di radio di flusso si chiama esattamente così noi facciamo un podcast per il quale registriamo più o meno 4 ore e mezza ogni puntata e poi Tahir deve tagliare l'80% di quello che diciamo e si arriva all'ora e 10 all'incirca però chiacchiera libera chi fa veramente la radio e la fa bene ha i tempi radiofonici quindi tempi di radio dj, di rtl eccetera che sono spietati e vai e vai e bentornati qua su radio in utilità radio in utilità soltanto voce soltanto voce e canzoni in nessun pensiero però quest'oggi abbiamo una grandissima intervista abbiamo un professore di semiottica dell'Università di Bologna avrà tutto il tempo di cui ha bisogno è qui con noi il signor Alvise Marengoni allora posso star con voi poco perdonatemi mi ha messo un altro impegno ho solo 2 ore e 20 sei fantastico se può andar bene ok sei il numero uno allora dicci qual è il tuo rapporto con il tempo e con lo spazio non la sento bene abbiamo altro tempo ma torniamo subito fra poco adesso andiamo con l'ultima canzone degli Imagine Dragons lei li conosce professore gli Imagine Dragons allora con Obi anni fa poi si torna dopo la canzone ma il tempo è un concetto del tutto arbitrario ora ho sentito adesso la dobbiamo salutare professore un ultimo pensiero al volo dicevo che il tempo è un concetto perfetto la salutiamo così professore grazie mille torniamo fra poco potete mettere Milva per cortesia che mi piace tanto a mia moglie io stavo pensando di fare un podcast che si chiama togliersi la vita in Piemonte si è la cosa tipo si ci può stare un po' l'ispirazione ti è venuta perché hai la finestra bloccata non ho piano albergo si noi ti abbiamo salvato Tahir lo vogliamo dire questo perché pochi sanno che c'è stato un momento in cui Tahir doveva andare a Milano è vero? no 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 la racconto io questo dilla se per me prego prego fai come fossi a casa tua allora io ho tanti amici romani che sono andati a Milano fanno il mio stesso lavoro e fanno più soldi oggettivi oggettivi e tutti sono 3-4 anni che mi dicono oh vieni via a Milano famo più soldi Tahir scusa se ti interrompo andare a Milano avrebbe significato che tutti voi per mesi avreste visto su YouTube il podcast più fico Tahir Federico quindi no no chiediamoci se veramente se veramente allora non apriamo la parentesi di quel programma lì va bene? sì c'è un accordo prestabilito sì per cui dopo che deluso la persona più potente d'Italia non se ne parla sì 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 posso fare la tua imitazione a LOL Luca Ravenna è possibile la tua imitazione a LOL se permette sono 4 giorni che non fai altro sono 5 giorni che non fai tanto e non c'è un po' e non fai tanto Allora solo video Edoardo è così. La voce invece è questa e volevo sapere voi siete i primi ad aver portato interessante, interessante. Edoardo non ascolta tre quarti di quello che gli viene da fare. Posso fare la tua imitazione a LOL? Edoardo stai vivendo? Incredibile Fabio perché partiva molto bene questo Ravenna, è partito molto bene, aveva questa carica, questa grinta, però come dire, lo vede un po' in difficoltà Fabio, come lo stai vedendo? C'è Ravenna che parte molto forte a LOL, sta cercando assolutamente di trovare una via per far ridere gli altri. Ci provo Fabio. Ecco, tenta un'azione sulla destra, ma inciampa, c'è la risata, fuori Ravenna. C'è fuori Ravenna. Esattamente Fabio, esatto, esattamente. Fabio, guarda come... Guarda, guarda, se rivediamo l'azione è bastato un hai cagato di Angelo Pintus per mandargli un tip, Fabio. È incredibile, perché a volte il problema non è nella risata, è nella testa, Fabio. Io così mi collego da bordo campo e intanto volevo ringraziare, ciao Fabio, ciao Beppe, grazie per questa cronaca. Sono molto contento che abbiate visto questo programma in cui ho deluso la persona più potente d'Italia. Non ho altro da dire su questo, avete delle domande allo studio? Sì, volevo sapere se rivedendo al bar effettivamente avevi riso o meno. Da facere il ritardo che c'è sempre nei vostri collegamenti. Sì, grazie mille. Se rivediamo meglio anche l'azione, guarda Fabio come... C'è anche un momento in cui per qualche ragione ha una parrucca rasta. Luca Ravenna in LOL, evidentemente il suo monologo era talmente tanto brutto che è stato completamente tagliato, Fabio. Incredibile, Fabio. No, questa... io non voglio rispondere a queste provocazioni, sono cose di cui risponderà la società. Noi ce l'abbiamo messa tutta per i tifosi, per mia madre che da lì ha iniziato a bere e... Vogliamo salutare la mamma di Luca che è qui questa sera. Fate un grande applauso alla mamma. Attenzione. E addirittura si alza in piedi, gonfia di gin tonic. Sicuro Luca? La facciamo parlare? Mia mamma? Sì. Vai. Cosa succede? Come stai mamma? Ti stai divertendo? Sì, sì, io mi diverto sempre. È la mamma del resto. Dimmi gin tonic, mamma. No, ho preso un suo moito. Oh, è a lei! È a lei! Devo dire oggi. Lei è una vera ragazza di Porta Venezia. A perché c'è nata e B perché se rifacessero le... l'edizione della canzone con donne milanesi di 60 anni, lei sarebbe una di quelle. Siamo le ragazze di Porta Venezia. Beviamo tanto gin. Fine. Grazie. Che meraviglia. Dimmi! Cosa c'è? Puoi smettere di ridere, mamma, eh? Comunque era ottimo lui. E si sente. E si sente che è ottimo, devo dire. Un applauso ai ragazzi del bar che ti stanno... Grazie. 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 Grazie.